Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo Intima Passione. Spero dopo la condividerete a tutti e farete iscrivere tutti i vostri amici al mio canale YouTube Savinotesse attivando la campanellina delle notifiche. Considerazioni sulla poesia. Il segno forte ed evidente della nostra cristianità è la ricca e intima passione che molto ci donerà. Una passione cristiana che noi viviamo ogni giorno, a volte non ce ne accorgiamo quando vogliamo bene gli altri, quando prestiamo attenzione e ascolto a certi significati divini, quando collaboriamo affinché ci sia unione e pace. Questa è l'intima passione, l'attenzione ai problemi e alla collaborazione reciproca. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo Intima Passione. Il segno forte ed evidente della degna cristianità è la ricca e intima passione che molto alla vita offrirà. Una passione cristiana, forte e ricca di divina presenza, di vita eccelsa e potente, degna della ricca sapienza. Una passione della croce, donataci dal Signore, nell'intimità dell'amore, limpido, vero e solenne. Si ha pace in terra agli uomini che vivono l'intima passione e nei sacri santi ideali gioiscono per il forte amore. Grazie, spero la condividerete a tutti. Arrivederci.